Che grande emozione! Grazie a tutte! Ciao, amici! Che bello che siete qui! Un negozio di animali! Wow! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Wow! Che giocattolo resistente! Deve essere un fuoristrada giocattolo costruito con un acciaio davvero super indistruttibile! Ed ora che si apra il sipario!